Stando ai dati ufficiali, l'anno scorso l'economia cinese è cresciuta più lentamente rispetto agli ultimi quattro decenni, ma resta l'unica grande economia ad aver continuato l'espansione nel 2020. Dopo una solida crescita del 4,9% nel terzo trimestre, il dragone è cresciuto del 6,5% nell'ultimo trimestre 2020 ed ha concluso l'anno con una progressione del 2,3%. I dati confermati dal mercato sono anche quelli ufficiali nazionali. Lo ha spiegato uno dei dirigenti dell'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino. La nostra economia ha una base per proseguire nella ripresa. Sebbene siano in campo molte misure che impediscono al coronavirus di attecchire di nuovo nel nostro paese, rimangono invariate le prospettive positive a lungo termine per la nostra economia. E questo lo si può dimostrare. La resilienza della Cina è stata notevole, tuttavia nel Lubei sono stati registrati negli ultimi giorni 52 casi conclamati di coronavirus e c'è stato un decesso.